Con Alessandra Soncin, membro del comitato di Memo 43 e 45 in occasione della manifestazione di ricordo della partenza del secondo convoglio di ebrei dalla stazione di Borgo San Dalmazzo alla stazione di Fossoli e poi verso Auschwitz. Una storia a cui Alessandra Soncin è legata personalmente, la famiglia di Alessandra Soncin è legata personalmente per una vicenda che ha riguardato sua bisnonna. La mia bisnonna si chiamava Andreina Blua e viveva nelle montagne sopra Valdieri, in una frazione che si chiamava Desertetto, ancora più in alto nascosta nei boschi. E nel 1943, dopo la prima decada di settembre, si sentì bussare alla porta da una famiglia composta da una mamma che si chiamava Hanna, con due figliolette rispettivamente di 9 e di 13 anni, che si chiamavano Gitta e Chaya, o Rovitz Rot, le quali fuggivano dalle persecuzioni nazifasciste del tempo. Loro erano ebrei provenienti dalla Polonia, il papà era stato già assassinato nel campo di concentramento di Sachsenhausen durante una rappresaglia e loro erano state messe nelle residence forse di Saint-Martin-Vésuby in Francia. L'8 settembre, dopo la firma dell'armistizio, seguirono l'esercito italiano, arrivarono a Borgo, ma capirono subito che la situazione non era loro favorevole e ritornarono immediatamente su verso le montagne ed andarono a chiedere aiuto nella parrocchia di Valdieri all'alrora aiuto parroco Don Francesco Brondello, riconosciuto giusto fra le nazioni dallo Yad Vashem. Don Brondello, che conosceva molto bene la tenacia della mia nonna, non esitò, glielo accompagnò e mia nonna si trovò a dover nascondere, ad aiutare per come fosse possibile queste tre persone. Non esitò sicuramente, le accolse nella sua casa, erano una famiglia di montanari poveri, vivevano, come amo sempre dire, di dignitosa povertà. Si faceva con il che si aveva, avevano sette figli e c'era la mia bisnonna e il mio bisnonno. Però poi purtroppo ci furono dei problemi di delazione da parte dei vicini, di gelosie e quindi lì nascosero ancora più in alto in una cava abbandonata di marmo per l'estrazione appunto del marmo, ma ormai quella vena si era asciugata e la cava era stata abbandonata. Rimasero lì fino al marzo 43. Nel marzo 43 la mia nonna, Anna, le accompagnò presso il colle dell'Arpione con la neve alta, perché quelli erano inverni molto seri, e loro scesero e trovarono poi attraverso tutto un percorso molto lungo che le portò attraverso l'Italia fino a raggiungere Roma, poi tornando indietro Firenze e Genova e la salvezza in America. Questa è un'eredità molto importante che ho ricevuto, che costudisco con grande cura e soprattutto perché io ho davvero avuto il privilegio di dare un volto ai nomi, perché sono in contatto con la seconda e con la terza generazione di questi sopravvissuti che nel 1984 prima e poi nel 2004 dopo sono venuti per ricongiungersi alla nostra famiglia. Da quelle tre persone aiutate in quel periodo ci siamo ritrovati a essere 30 persone. Questo è un regalo enorme che ci ha fatto la vita, che costudiamo e che cerchiamo di trasmettere con molta responsabilità, nel senso che l'importante secondo noi è credere, io lo credo profondamente, che anche nel momento più difficile, nel buio più totale, ci sia la possibilità di accendere una luce, di guardare al cielo e di trovare ispirazione per fare del bene in qualsiasi situazione. Grazie a te. Grazie.